Buongiorno e benvenuti al nuovo appuntamento con Meteo Weekend. Tempo ancora incerto in questo fine settimana, abbastanza freddo e con temperature inferiori rispetto alla media del periodo. Più in dettaglio sabato avremo un inizio di giornata con poche nubi che tenderanno ad aumentare tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio, specie al nord-est e su parte del centro-sud dove avremo delle piogge a tratti anche intense e degli isolati temporali sulle regioni del versante adriatico. Neve inoltre attesa sulle cime più alte dell'Appennino e su parte delle Alpi, il tutto in un contesto di ventilazione sostenuta con forti venti di maestrale che interesseranno la Sardegna e gran parte delle regioni tirreniche. Mari tra il mosso e le molto mosso. Domenica ancora alta la probabilità di pioggia, specie in mattinata sulle regioni del versante adriatico. Avremo inoltre un aumento della nuvolosità al settentrione con piogge seppur deboli attese tra la fine della mattinata e le prime ore del pomeriggio. Inoltre neve prevista ancora sulle cime più alte dell'Appennino e su parte delle Alpi. I venti tenderanno a diminuire, rimarranno ancora forti sia sul Martirreno che sul medio adriatico e mari ancora tal mosso e il molto mosso. Infine concludiamo con le differenze di temperatura. L'aria blu nella Moviola ci mostra una diminuzione generalizzata delle temperature nei valori massimi e minimi. Bene, con questo è tutto. Io vi ricordo che da questa settimana è disponibile il nuovo numero della rivista di meteorologia aeronautica. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web www.metoam.it